La lega è accusata di essere euroscettica contro l'Europa, noi siamo contro l'Europa così come funziona adesso, perché non funziona, non è in grado di risolvere i problemi. Al di là delle buone o cattive intenzioni, ho fatto l'esempio prima dei pannelli solari, una procedura che l'Europa mi ha detto Barroso, io ho dovuto mettere in moto, e che però, rapporto costi-benefici, danneggia pesantemente alcuni paesi, o rischia di danneggiare alcuni paesi europei. Quindi noi, se questo avverrà, voi immaginate i cittadini italiani, i produttori, le aziende agricole, che penseranno che l'Europa li sta danneggiando. Noi siamo per un'Europa diversa, ma siamo l'unico partito che ha in mente, vero Francesco? Un modello di Europa, l'Europa che verrà.